Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Saremo ancora in compagnia del sole nei prossimi giorni, questo grazie all'anticiclone delle Azzorre che occupa gran parte del Mediterraneo centro-occidentale. Abbiamo indicato sole sulla parte settentrionale dell'Italia, ma attenzione alle nebbie che saranno fitte in pianura padana. Le temperature si manterranno nella media del periodo abbastanza rigide al primo mattino, mentre durante le ore centrali della giornata, grazie all'insolazione diurna, avremo temperature abbastanza miti. L'anticiclone delle Azzorre continuerà anche nei prossimi giorni, abbiamo detto. L'inizio della prossima settimana vedete la sua posizione che dominerà gran parte dell'Italia centro-settentrionale. Vedete invece una bassa pressione che interesserà l'Egeo, la Calabria Ionica e soprattutto la Grecia, dove avremo anche delle forti precipitazioni. Come abbiamo detto, inizio della settimana in compagnia del sole, ma a partire da fine della prossima settimana vedete che l'inverno avanza. Infatti aria più fredda proveniente dal nord Europa, direttamente dalla Scandinavia, favorirà l'ingresso di una perturbazione di un fronte freddo che lambirà le Alpi e porterà a un peggioramento del tempo, proprio partire da venerdì prossimo, e torneranno le piogge e qualche nevicata anche in montagna, ma sarà una perturbazione molto rapida e poi tornerà di nuovo il bel tempo. Ecco, passiamo all'animazione da satellite di oggi, che dire nulla di significativo sul Mediterraneo. Vedete come gran parte dell'Italia centro-settentrionale si trovi sgombra dalle nubi e queste perturbazioni che sono costrette a scorrere a latitudini più settentrionali sulla Scandinavia, sul nord delle isole britanniche, proprio per la presenza di questa grande cupola anticiclonica. Qualche annuvolamento lo abbiamo solo a sud della Sicilia. Passiamo quindi alle previsioni per domani in Valle Seriana. Non c'è che dire, sarà una bella giornata autunnale, bel tempo al mattino sull'Alta Valle Seriana e Valli di Scalve. Avremo invece qualche foschia densa e locale banchi di nebbia solo nella parte più meridionale della Valle Seriana e in prossimità della città di Bergamo. Ci saranno delle gelate notturne anche nella piana di Clusone con temperature al primo mattino anche di 0 gradi. Poi nel corso della giornata abbiamo detto che, grazie al sole, avremo appunto temperature in aumento che arriveranno fino a 10-12 gradi di massima a Clusone, 0 termico oltre i 2800 metri di altitudine. Nella serata torneranno le foschie dense e i banchi di nebbia soprattutto in pianura, mentre avremo cieli stellati nottata sulle nostre montagne orobiche. Diamo uno sguardo all'evoluzione per la settimana in Valle Seriana. Vi ho detto un inizio di settimana in compagnia del bel tempo. Avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia lunedì, sia martedì, sia mercoledì. Temperature nella media del periodo, comprese tra i 2 gradi di minima a Clusone e i 12 gradi di massima. Giovedì abbiamo indicato qualche nuvola in più, qualche nuvolamento che è il segno del cambiamento del tempo. Infatti abbiamo indicato venerdì l'arrivo delle piogge, soprattutto al mattino avremo le prime piogge, i primi rovesci, temperature in discesa, vedete massime che non supereranno gli 8 gradi, e abbiamo indicato anche le prime spruzzate di neve oltre i 1500 metri di altitudine. Sarà un rapido peggioramento che appunto porterà al prossimo fine settimana con ancora bel tempo per il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre. E per il meteo è tutto, vi aspetto qui sabato prossimo sempre su Antenna 2.